L'importanza della cultura della legalità che da 30 anni il premio nazionale Paolo Borsellino diffonde nelle scuole e nella società civile non solo abruzzese, arriva a dirla il prefetto di Pescara. Vale soprattutto affiancare l'attività di contrasto di prevenzione delle forze di polizia con una cultura della legalità che abbia radici solide. L'occasione è la presentazione delle iniziative finali dell'anno in corso e dei progetti futuri per l'educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla costituzione del premio nazionale Paolo Borsellino. Partiamo proprio in questi giorni dal 26 al Circus di Pescara con un teatro appunto organizzato dalla Franca Berardi con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo 4 per poi arrivare alla cerimonia di premiazione il prossimo 28 all'Aquila ma nel mezzo abbiamo Colle Corvino con una consulta giovanile che avrà l'opportunità di incontrare Massimo Caponnetto ma poi ancora il 25 all'Università dell'Aquila nella facoltà di lettere e poi il premio non si ferma come ormai sappiamo da tanti anni e quindi ricominciamo a novembre con la Polizia di Stato per appunto parlare di violenza sulle donne e poi abbiamo il bullismo, il ricordo della Shoah e poi abbiamo le officine della legalità che arrivano in tutte le scuole di tutta la regione ma non ci limiteremo in quel caso soltanto a far incontrare i testimoni di giustizia ma avremo anche l'opportunità di creare dei veri e propri lab del fare per promuovere una nuova cultura della legalità. Di recente per iniziativa del Presidente Lorenzo Sospiri una legge regionale dà un riconoscimento istituzionale al premio e alle attività collegate. Non è pensabile che l'ente Regione Albuzzo non sostenesse dopo oltre 30 anni di dedizione il premio Borsellino che come vedete ormai è un evento onnicomprensivo per i 12 mesi dell'anno che parla alle nuove generazioni di legalità e buoni comportamenti. La maglia Gadget li indosserà? Assolutamente sì.